Spesso il male di vivere ho incontrato Era rivo strozzato che gorgoglia Era l'incardocciarsi della foglia riarsa Era il cavallo stramazzato Bene non seppi Fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza Era la statua nella sonnolenza del merigio E la nuvola E il falco alto levato Sono questi i versi composti nel 1924 E tratti da Ossi di Seppia Che secondo me meglio esemplificano La poesia metafisica di Eugenio Montale E soprattutto quell'uso del correlativo oggettivo Di cui ho parlato nel video che vi linko qui in alto E che serve al poeta per rendere quel rapporto Che si instaura tra la parola e gli oggetti nominati Nello stesso video ho introdotto la poetica di Montale Lasciando detto che sarei entrato più in dettaglio Nei componimenti nel seguito Quindi oggi mi offro io E parliamo di come Montale giunga La consapevolezza del male di vivere Con una precisa e studiata scelta del significante Che ricorda le sue ispirazioni a Dante e a Leopardi La scelta di adottare soluzioni stilistiche decise Ed in particolare un lessico asciutto E di registro plurilinguista E da qui l'ispirazione a Dante Deriva dalla necessità sentita dal poeta Di aggrapparsi a qualcosa Alla forma In particolare alla ripresa straniata della tradizione Per dare un senso alla vita Di fronte alla sofferenza che permea la realtà Allo stesso tempo, tuttavia È proprio questa sofferenza che diventa per Montale La possibilità per l'uomo Di andare più a fondo Di scoprire qualcosa in più su se stesso Allo stesso modo in cui Quella malattia di Leopardi Gli permetteva di cogliere gli aspetti più veri Anche se brutti Della realtà circostante Il male di vivere non è presentato in senso metaforico o analogico Come avrebbe fatto ad esempio un poeta del decadentismo Bensì viene presentato come una esperienza concreta Con quel verbo Ho incontrato Che sottolinea come Montale abbia riconosciuto il male di vivere Gli oggetti comuni e concreti della realtà circostante Esso era Il rivo strozzato La foglia incartocciata Il cavallo stramazzato Emblemi Ove si incarna quel malessere esistenziale Proprio non solo del poeta Ma di un'intera epoca Che ha conosciuto il crollo degli ideali in cui credeva Le immagini che si susseguono Si rifanno al campo semantico dell'arsura In quanto è questa la condizione più sentita dal poeta E riconosciuta quale simbolo del tormento soffocato e affannoso Nell'arido paesaggio ligure in cui egli crebbe I suoni stessi Aspri e duri Con le allitterazioni delle R e delle Z E i termini onomatopeici come Gorgoglia Rendono questa esperienza continua del dolore In una climax discendente Verso l'umanizzazione di questi elementi Dal mondo minerale A quello vegetale A quello animale E' significativo ancora Come le cose che rappresentano quel male di vivere Siano portate a titolo d'esempio dagli stessi due punti Dopo Ho incontrato Ritroviamo quell'importanza della punteggiatura Che già Pasquale aveva sottolineato In opposizione al male di vivere Non vi può essere Secondo il poeta Altro bene Che il distacco e l'indifferenza La divina indifferenza E' quella propria della divinità Lontana e insensibile al disagio esistenziale Che fa schiudere il prodigio Il mistero Che si cela dietro a ciò che noi chiamiamo Dio L'alternativa al male E' dunque lo stoico distacco Da una visione della realtà Pervato dal dolore Non la fratellanza tra tutti gli uomini Come auspicava Leopardi Né la ginestra A cui dedicherò un video in futuro Bensì L'allontanamento E la chiusura L'indifferenza E' ancora esemplificata Da tre correlativi oggettivi La statua La nuvola E il falco alto Levato In una climax Questa volta ascendente al cielo Che sembrerebbe quasi suggerire Come sia Il distacco intellettuale Una possibile fonte di speranza E forse può proprio essere questa L'interpretazione dell'immagine del falco Quasi a ricalcare l'immagine del poeta Che dall'alto del suo stoico distacco Osserva la realtà E ne coglie la vera essenza Quella sofferenza che la pervade E che è caratteristica di un'epoca In cui sembra che ancora oggi siamo immersi Quando ci fermiamo ad osservare Quante e quali ingiustizie Vengano perpetrate a danno dell'umanità In molteplici aree del pianeta Quindi questo era tutto quanto avevo da dirvi In questo terzo video dedicato a Montale Grazie per aver guardato Io vi chiedo di farmi sapere nei commenti Se il video vi è piaciuto Condividete con i vostri amici Seguitemi su Facebook e su Twitter E ci vediamo Al prossimo video